alluvione la regione stanzia 21 milioni e mezzo 24enne trovata morta in casa decesso per cause naturali da domani apre il nuovo punto vaccinal anti covid di pesaro ottobre all'insegna della prevenzione al tumore al seno studenti del conservatorio a lezione dal primo violino della scala di milano una buona serata a tutti voi amiche amici di rossi rossini tv ben ritrovati all'appuntamento informativo di rossini news con questa edizione del nostro telegiornale in questo venerdì 30 settembre a due settimane dalla catastrofica alluvione nelle province di peso rubino e di ancona il consiglio regionale delle marche ha deliberato l'assestamento di bilancio che prevede lo stanziamento di oltre 21 milioni di euro per andare incontro alle esigenze dei territori alluvionati e per prevenire simili eventi futuri vediamo il servizio 21 milioni e 600 mila euro per l'alluvione che ha colpito le province pesarese e anconetana a due settimane dalla catastrofe ambientale e umana il consiglio regionale ha approvato l'assestamento di bilancio con una maxi variazione destinata alla eccezionalità dell'evento acquaroli ha sottolineato lo sforzo enorme con 15 dei 21 milioni che saranno destinati alla manutenzione dei fiumi fino al 2024 nello specifico subito nel 2022 6 milioni per un fondo straordinario di sostegno alla liquidità delle imprese che hanno subito danni a causa dell'alluvione e un milione e 600 mila euro per la pulizia dei fiumi dopodiché 7 milioni per la manutenzione straordinaria dei fiumi nel 2023 e altri 7 per analoga manutenzione nel 2024 acquaroli in consiglio ha enfatizzato uno stanziamento mai realizzato prima ma doveroso per la eccezionalità catastrofica dell'avvenimento lo stesso governatore ha pure rivendicato i 106 milioni già stanziati in due anni per il dissesto idrogeologico contro i 98 nei cinque anni della precedente giunta regionale per andare incontro all'alluvione vengono depennati dal bilancio diversi stanziamenti a iniziative culturali per la provincia di pesero da segnalare ad esempio la rinuncia a 80 mila euro per le proloco a sostegno del progetto il natale che non ti aspetti maxi stanziamento ma malumori dell'opposizione il partito democratico vede bocciato il maxi emendamento da 8 milioni e mezzo per un fondo di emergenza a sostegno di famiglie imprese colpite dall'alluvione così come viene bocciata la proposta di fondo da 4 milioni destinato a contrastare il caro bollette sull'alluvione invece la partita resta aperta con un consiglio regionale monotematico già calendarizzato per l'11 ottobre e come avete ascoltato proprio i fiumi sono i maggiori beneficiari delle risorse stanziate dalla regione una prima risposta ad una esigenza particolarmente sentita nel territorio comunale di valle foglia la città di valle foglia i comuni limitrofi sono territori ricchi di fiumi torrenti e fossi e mai come ora a seguito dell'alluvione che ha colpito le marche è importante una pulizia una manutenzione degli argini la situazione non è delle migliori e come vi abbiamo mostrato ieri per quanto riguarda il fosso di apsella anche per il fosso taccone per il fiume foglia occorre un pronto intervento intervento richiesto non solo dalla cittadinanza ma anche dal sindaco di valle foglia palmi rucchielli tramite un reclamo presentato alla regione marche responsabile della manutenzione dei fiumi i fiumi una volta erano a competenza dello stato poi della provincia oggi sono a competenza della regione io credo che bisogna autorizzare a togliere tutti quegli alberi che sono caduti che sono tutti secchi e darli gratuitamente ai cittadini piuttosto che comprare la legna a 20 euro e togliere il pericolo perché francamente quelli fanno delle paratie che portano via tutti i punti fanno disastri incalcolabili e poi bisogna interloquire con il mondo dell'agricoltura per ritornare a fare la manutenzione la pulizia dei fossi e la manutenzione idraulica del territorio fondamentalmente è una cosa certamente non difficile e se non succedono cose diciamo impossibili da prevedere ma tutto è prevedibile ogni tanto mandano un messaggino allerta meteo allerta meteo l'allerta meteo bisogna mandarla per davvero quando serve quando c'è il pericolo io mi ricordo quando ero presidente della provincia con l'ingegnere Zengarini allora alzammo le sponde dei fiumi nella fucce del foglia e del metauro mettemmo delle reti per non farle rompere alle nutrie che le perforavano le sponde quindi io credo che gran parte un buon 90 per cento dei fenomeni si possono diciamo prevenire prevedere evitare che succedano i disastri e quindi faccio un forte appello io ho scritto più lettere manco rispondo la regione non rispondono nemmeno per il fosso taccone che è il fosso principale che attraversa la città di Vallefoglia e anche Montelabate e hanno messo delle risorse a forza di scrivere di protestare di segnalare di sollecitare di circa 800-900 mila euro da due o tre anni ancora non si capisce che fine hanno fatto sembrerebbe che abbiano delegato il consorzio di bonifica ma ancora devono far l'appalto stiamo arrivando di nuovo all'inverno la manutenzione va fatta nel periodo estivo va fatta la manutenzione dei fiumi vanno tolte le piante secche vanno fatta vanno fatte le cose necessarie per evitare disastri i cittadini possono fare qualcosa possono adoperarsi oppure la burocrazia gli impedisce di intervenire le responsabilità del governo chi governa deve decidere non è pensabile che ciò l'autorizzazione che i cittadini sono terrorizzati dalla forestale che ha paura che gli fanno i verbali chi ha responsabilità deve decidere semplificare la vita fare le cose veloci evitare i disastri ed ora la cronaca marianna mennella impiegata ed ex studentessa del liceo mamiani è morta ieri a soli 24 anni nella sua casa di corso 11 settembre in pieno centro a pesaro la ragazza classe 1998 è stata trovata senza vita dai sanitari del 118 dopo la richiesta di soccorsi allertata da un vicino di casa sanitari e carabinieri hanno constatato un decesso che avvenuto per cause naturali non è infatti da escludere che la ragazza soffrisse di una patologia pregressa che ieri ha avuto questo inatteso quanto drammatico epilogo marianna lascia i genitori ed un fratello e da domani sabato primo ottobre apre il centro vaccinale anticovide negli spazi dell'auditorium di via toscana appartenente a marche multiservizi pesaro ritrova dunque un hub vaccinale a quattro mesi di distanza dalla chiusura dello spazio che era presente al rossini center una riapertura che avviene in un autunno che registra una ripresa dei contagi sabato primo ottobre apre il nuovo centro vaccinale anticovide della città di pesaro è stato allestito negli spazi dell'auditorium di via toscana appartenenti a marche multiservizi che proprio ieri ha tenuto una conferenza stampa prima di dare la disponibilità della struttura al servizio della comunità pesarese sprovvista di un hub dallo scorso giugno periodo in cui la proprietà dell'ex resto alla rossini center è tornata a riappropriarsi dei locali come d'accordi con l'area vasta 1 dopo mesi di ricerche di soluzioni alternative ammorbidite dall'onda più bassa della pandemia da ottobre si parte dunque con la nuova struttura che si affiancherà ai punti vaccinali di fano e di urbino che non hanno mai cessato le loro funzioni è stata una scelta l'amministratore ha avuto questa intuizione la comunicata al comune di pesaro perché c'è questa disponibilità non ci priveremo sempre perché ci siamo riservati eventualmente qualche momento particolare dove abbiamo capito che insieme a asur è possibile ripristinare le situazioni per poter fare eventualmente qualche momento insomma di presentazione o di altro tipo quindi ci siamo riservati alcune giornate senza creare difficoltà alla gestione però ecco abbiamo voluto essere utili anche da questo punto di vista avendo questo spazio che è stato recuperato e l'idea di restituirlo un po alla collettività in termini di servizio va precisato che il nuovo ab vaccinale di pesaro così come quelli di fano e urbino non saranno in funzione tutti i giorni ma solo una volta la settimana ciascuno in orario mattutino dalle 8 alle 13 il ritmo attuale vede infatti appena 50 vaccini al giorno sul territorio però siamo nella fase delle quarte dosi che d'autunno potrebbero avere una risalita oltre che essere particolarmente raccomandate soprattutto per soggetti fragili immunodepressi e persone over 60 il nuovo punto vaccinale pesarese apre dunque domani per poi riproporsi venerdì 7 ottobre e nei seguenti tre martedì dello stesso mese ab vaccinale che riparte dopo una settimana di particolare rialzo di contagi le marche sono al quarto giorno consecutivo sopra i mille casi e in una settimana l'incidenza è passata da 240 a 440 casi settimanali ogni 100.000 abitanti ottobre sarà il mese della prevenzione al tumore al seno una sensibilizzazione per quanto riguarda questa patologia che nel nostro territorio si declinerà in tante iniziative portate avanti dall'associazione golden brain e dalla lega italiana lotta ai tumori con il sostegno di conf commercio ottobre rosa è una tradizione che si rinnova a livello nazionale che nel nostro territorio viene portata avanti da golden brain e l'ilt con tutta una serie di iniziative che vedono anche l'appoggio di conf commercio sì assolutamente l'associazione culturale golden brain nasce proprio per supportare le fragilità particolarmente le fragilità femminili e anche quelle dei bambini a livello fisico psicologico ed economico il primo progetto che abbiamo seguito e che abbiamo sposato è stato movis che sul territorio delle marche è molto conosciuto proprio a livello oncologico e in questo ottobre rosa non potevamo mancare il nostro prima la nostra prima partecipazione su 30 giorni perché abbiamo iniziato gli anni precedenti con la corsa la camminata flaminia rosa quest'anno saremo presenti su tutto il territorio pesaro fano e urbino proprio con tanti eventi in ogni evento ci sarà la partecipazione delle attività commerciali delle palestre quindi un supporto del territorio la rete che ci serve che serve a tutti per poter parlare informare sensibilizzare alla prevenzione che ancora oggi è uno degli elementi in assoluto fondamentali per poter davvero ridurre quest'incidenza del tumore alla mammella ma soprattutto la prevenzione sappiamo che ha una ricaduta sulla salute e anche a livello economico sulla spesa sanitaria non ci dimentichiamo che anche quella è una voce importante noi andiamo a supportare a collaborare per coinvolgere fano pesaro piuttosto che urbino con tutto il discorso diciamo commerciale per poter veramente sensibilizzare la nostra comunità quindi avere il rispetto della nostra comunità perché nel tempo deve essere un lavoro proprio propedeutico per riuscire a far capire che la prevenzione è fondamentale nella vita di una donna ma nella vita di tutti. L'obiettivo di queste campagne di prevenzione è proprio quella di sostenere e sensibilizzare le donne ad avere consapevolezza di quanto sia importante prevenire il tumore al seno. I tumori di piccole dimensioni possono essere trattati chirurgicamente non necessitano di interventi invalidanti questo vuol dire non solo una maggiore chance di guarigione ma anche dal punto di vista estetico un successo terapeutico per la donna. Quello che noi sappiamo che la sopravvivenza inoltre è migliorata nel tempo come anche la mortalità è migliorata nel tempo nel senso che si è ridotta di numero. Questo perché? Perché grazie allo screening che va a scovare i tumori di piccole dimensioni, grazie ai successi terapeutici con la radioterapia sempre con tecniche migliorate nel tempo e i nostri farmaci chemioterapici, parlo da oncologo perché sono anche direttore dell'oncologia dell'area vasta 1 ospedale di Urbino. Quindi con i nostri farmaci riusciamo anche a guarire una maggior proporzione di donne. Prevenzione non è solo screening, non è solo mammografia ma è anche visita senonologica, imparare a capire come è fatto il proprio seno, quindi autopalpazione, l'autoesame. Le donne dovrebbero tutte imparare a fare questo tipo di esame. E poi prevenzione vuol dire anche conoscere i fattori di rischio e cercare di eliminarli. Prevenzione vuol dire tante cose non solo mammografia e questo è il messaggio che noi vogliamo dare a tutte le donne in questa campagna Lilt for Women che quest'anno vede la collaborazione e comunque l'appoggio della Golden Brain perché c'è proprio bisogno di sensibilizzare tutte le donne. Un altro dato sulla prevenzione, sugli screening mammografici circa l'83% delle donne marchigiane fanno una mammografia o perché aderiscono allo screening o perché organizzano in autonomia l'esame. Questo significa che nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni c'è un 17% di donne che comunque la mammografia non la fa. E quindi questo è anche un altro dato su cui riflettere. Quindi cercare di invogliare e di portare le donne alla prevenzione al di sotto dei 50 anni ma cercare di sostenere tutte le donne in fascia d'età 50-69 anni a sostenere l'importanza della mammografia. Non ultimo il discorso degli over 70, questo soprattutto perché l'aspettativa di vita è notevolmente migliorata nel tempo, la qualità di vita anche, l'età media delle donne si è alzata notevolmente e quindi un pensiero anche alle donne oltre i 70 anni quando smettete di ricevere la cartolina per lo screening mammografico. Ricordatevi che la mammografia ogni due anni è importante anche per voi. E occupandoci sempre di salute vi ricordiamo anche un nuovo format di Rossini TV che partirà lunedì 3 ottobre. Parliamo delle pillole dallo spazio salute San Decenzio, ovvero 5 appuntamenti per 5 lunedì di ottobre che andranno in onda subito dopo il telegiornale alle ore 20 e 10. Lunedì 3 ottobre parte un nuovo spazio su Rossini TV, uno spazio settimanale 5 lunedì di ottobre in compagnia dello spazio salute San Decenzio con delle pillole che in ambito medico e farmaceutico significano una cosa precisa. In questo caso sono invece dei piccoli assaggi di quella che è l'attività dello spazio salute San Decenzio. Sì, abbiamo deciso di fare questa collaborazione con la TV, con Rossini per spiegare un po' quello che facciamo. Quindi ci sarà una puntata dedicata alla parafarmacia, quindi la farmacista ci spiegherà un pochino quali sono i servizi e i prodotti del nostro punto vendita. Poi avremo un appuntamento con il fisioterapista che ci illustrerà un pochino quali sono le sue tecniche di terapia per migliorare la salute dei suoi pazienti. Poi avremo una puntata sulla medicina estetica della parte della dottoressa Maria Rosaria Serra che anche lei ci parlerà un po' di quello che fa e dei suoi servizi, macchinari che usa, queste cose qua. Un'ultima puntata presenteremo il nostro personal trainer e quindi la palestra che è il nuovo centro medico che abbiamo qua alle mie spalle e ci spiegherà un pochino anche lui come utilizzerà il tempo con chi vorrà scegliere questa palestra per migliorare il proprio corpo e la propria salute. E dunque 5 lunedì, il primo lunedì 3 ottobre alle 20.10 è proprio dedicato a Giovanni Oliva qui presente che darà una infarinatura di quella che è l'attività. Non volevo dirlo questo però me l'hai detto e sì, diciamo che spiegherò un pochino come è nato lo spazio salute, come si è evoluto e come crescerà. Quindi tutte le fasi del figlio spazio salute e di come diventerà poi nel futuro. Da ieri e fino a domenica una delegazione della città albanese di Tropoia è nel territorio di Vallefoglia ospite dell'amministrazione del sindaco Cucchielli per uno scambio culturale e di cooperazione internazionale con la realtà balcanica di 20.000 abitanti che sta visitando realtà industriali, sociali e scolastiche del territorio di Pian del Bruscolo. Invece questa mattina nelle sale delle Castellare di Palazzo Ducale di Urbino è stata inaugurata la mostra curata da Vittorio Sgarbi, Arte e potere in dialogo con Federico da Montefeltro. La mostra rientra nelle celebrazioni dei 600 anni dalla nascita delle Duca. Nelle sale di Palazzo Ducale sono esposte 26 opere contemporanee di Giuseppe Bergomi, Bertozzi e Casoni, Tullio Cattaneo, Giuseppe Ducro, Marco Lodola, Igor Mitorai, Livio Scarpella e Ivan Thaymer. Si tratta di sculture realizzate su commissione legate dal filo conduttore dell'interpretazione di quanto la grandezza possa trovare ancora nell'arte un mezzo per rappresentare se stessa e quanto il potere possa essere impiegato per migliorare il mondo. Ricordiamo che l'esposizione sarà visitabile fino all'8 gennaio. E invece domani, sabato, 1 ottobre all'Alexandre Museum Palace Hotel di Pesaro si terrà la prima edizione del Premio Nazionale per l'Editoria di Merito. Una iniziativa culturale ideata dal conte Alessandro Marcucci Pinoli di Valfesina con tre case editrici nazionali che sono state premiate dopo la selezione di una giuria tecnica composta dal poeta Claudio Recalcati, dalla consulente di comunicazione Anna Maria Balestra e dallo scrittore Giorgio Leonardi. Per il 2022 la giuria ha scelto di premiare Fazzi Editore, le lettere e le edizioni Giuseppe La Terza con gli editori che domani saranno presenti al momento della premiazione. E ieri nel nostro notiziario vi abbiamo annunciato l'avvio della Masterclass di Jose Carreras per gli studenti del Conservatorio di Pesaro a partire da lunedì. Ma già in questi giorni gli stessi studenti del Conservatorio stanno ricevendo preziosi insegnamenti da un'altra docente d'eccezione. Vediamo di chi si tratta. Un corso, quello fornito dal Conservatorio Rossini di Pesaro ad alcuni suoi studenti che sa tanto di premio e di grande opportunità regalata. Un'opportunità gigante come gigante è la docente esterna della Masterclass. Laura Marzadori, 33 anni e primo violino del Teatro alla Scala di Milano che per quattro giorni dal 28 settembre al 1 ottobre segue gli 11 effettivi di violino che hanno scelto di partecipare. È sempre bellissimo poter incontrare giovani musicisti in un lavoro che si compone di più aspetti perché facciamo lezioni di violino con repertorio solistico però affronteremo in ultimo giorno anche passi importanti d'orchestra così per poter introdurre i ragazzi anche nel mondo dell'orchestra e del repertorio per grandi gruppi. Il livello degli studenti è buono? Assolutamente, sono tutti molto bravi, sono tutti bravissimi ragazzi e soprattutto ho notato proprio un grande desiderio di imparare penso ci sia stata una bella intesa tra noi quindi la cosa più importante. Una grande docente per questo corso ci puoi raccontare anche un po' la tua storia? Nel senso sei giovane, sei comunque il primo violino della Scala di Milano quindi di strada ne hai fatta nella tua brevetà comunque. Sì, adesso ho 33 anni, ho iniziato a studiare da piccolissima tra l'altro la mia insegnante era di Pesaro, Fiorenza Rosi, la mia prima insegnante quindi c'è un legame con questa città molto forte e poi appunto ho vinto il concorso per primo violino di spalla dell'orchestra del teatro alla Scala otto anni fa, quindi già un percorso che sta diventando lungo, importante e ovviamente è un'esperienza che ti cambia la vita però appunto non mi ha impedito di continuare a fare anche tante attività collaterali come quella dell'insegnamento ma anche quella di camerista, insomma il solista che porto avanti parallelamente. Ci sarà in futuro l'opportunità per i pesaresi di ascoltarti qui a Pesaro? Lo spero, ancora non c'è una data diciamo stabilita però sicuramente penso che tornerò anche insomma per qualche concerto. Per uno studente di qualsiasi livello è sicuramente una grande opportunità poter studiare e approfondire il repertorio solistico appunto legato al violino. Avete imparato qualcosa di nuovo? Sicuramente sì. Assolutamente sì, assolutamente. Consigli da tutti i punti di vista, tecnico, espressivo quindi assolutamente sì. E concludiamo con lo sport. Riparte la Serie A di basket e riparte a distanza da quelle 19 maggio in cui la Carpegna Prosciutto Pesaro venne eliminata dalla Segafreddo Bologna nei play-off ritrovati dopo dieci anni di astinenza. La VL riparte domenica 2 ottobre alle 19 contro l'Allianz Trieste. Dopo un buon precampionato la squadra del ritrovato coach Yasmin Repesha prova dunque a partire subito col piede giusto da valutare però le condizioni del greco Charalampopoulos. E sempre questa domenica alle 15.30 parte anche la Serie A di rugby. Per la Fiorini Pesaro il debutto in trasferta a Roma contro la Lazio appena retrocessa dal campionato top 10. Vi ricordiamo che dalla settimana seguente anche in questa stagione le partite casalinghe della Pesaro Rugby saranno visibili in differita proprio su Rossini TV. Un altro campionato di Serie A è quello di calcio a 5 e dopo il debutto con sconfitta esterna di domenica a Pescara l'Ital Service Pesaro cerca il riscatto questa domenica alle 16 nella prima casalinga al Palafira contro la neopromossa città di Melilli. E invece già la sesta giornata il campionato di calcio di Serie C con la Vispesaro che domani sabato 1 ottobre gioca in anticipo e in trasferta in Sardegna alle 14.30 sul campo della Sasseri Torres. Vische proverà a risollevarsi dopo la prima pesante sconfitta della stagione subita contro l'Ancona. E con lo sport concludiamo questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci come di consueto andiamo a dare uno sguardo a qualche appuntamento sulla nostra emittente a cominciare da una prima serata che parte alle 21.10 andando a rivivere le emozioni dell'incontro con Massimiliano Secchi organizzato da Fisioradi Medical Center incontro dal titolo Mente Corpo, il tuo benessere dipende da te. A seguire alle 21.20 spazio al teatro, spazio allo spettacolo sa un fil de luce andato in scena allo scorso weekend al teatro sperimentale si tratta di uno spettacolo teatrale incentrato sulle poesie di Carlo Pagnini musicate dal direttore del conservatorio Fabio Masini appuntamento come detto questa sera alle 21.20 E vi ricordiamo anche che l'informazione su Rossini TV torna come di consueto anche con la rassegna stampa del sabato Buongiorno Rossini domani a tenervi compagnia ci sarà il nostro Marco Cadedu a partire dalle 7.20 Altra diretta è quella con le funzioni religiose di Rossini TV questa domenica 2 ottobre alle 16 saremo in diretta dal Duomo di Pesaro per la Santa Messa di Imposizione del Paglio all'Arcivescovo una funzione che sarà presieduta dal nunzio apostolico in Italia Monsignor Emil Sherrig e poi ve l'abbiamo già anticipato nel nostro telegiornale parte un nuovo format di Rossini TV dal prossimo lunedì 3 ottobre prima puntata delle pillole dello spazio salute San Decenzio San Decenzio spazio salute che informa su alcune delle sue attività si parte lunedì alle 20.10 vi terrà compagnia per 5 lunedì di ottobre questo format oltre a lunedì vedete le tante repliche che andranno in onda ogni giorno della settimana ed è davvero tutto per questa edizione del telegiornale da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi